A Bisaccia, nel 1694, fu un po' frippo del proprio morto, che vi si fosse mortichie e all'incirca 200 attenzioni. Il preziosissimo tesoro di un pescovado vecchio, custodito gelosamente da cavalieri e dai vari seggi di Bisaccia, viene trafugato verso una scondiglia segreta. Si nata, ancora oggi, che il disperato fantasma di un cavalieri si è aggirito nel contrario di Bisaccia, senza trovare pancia, in cerca del tesoro. Il tesoro è ancora più saggio. Il Camaggiero ha scostato, da Sainzio, fine di Lecane. Con questo cuore da cambiare, a Sainzio, dovevo capitare, in libri, volermi, occhiali e asfogliare. Il messaggio da conservare è che la mente devi sempre allenare. Se voi la fame vi prende, c'è una pizza che vi attende. Al passo razzo vi stanno spettando oggi. Non è più domatevi, figlio dei grandi. Il preziosissimo tesoro è stato caldo, è sempre a scosso e concivato. Il calabinere sta a porti a perenni e vi saluto tutti i tuoi figli di Bisaccia. Grazie a tutti!